Buongiorno, ben ritrovati e ben ritrovati, questo è Setti in Punto, questa mattina ci occupiamo di economia o meglio ci occupiamo di una questione che va anche oltre l'ambito economico, perché abbracciamo tutto il momento difficile che stiamo vivendo, non da ieri, non dall'altro ieri, ma ormai da tempo, addirittura potremmo rifarci alla crisi Lehman Brothers del 2008 se volessimo, ma perlomeno ci limitiamo a un'analisi di quelli che sono gli ultimi periodi, gli ultimi momenti di questa crisi congiunturale, così abbiamo voluto intitolare la trasmissione, congiuntura difficile di questa mattina, lo facciamo con una persona che si occupa di formazione e che ha dunque anche un osservatorio, chiamiamolo abbastanza privilegiato sulla situazione della nostra realtà produttiva, delle nostre imprese, di tutto quello che costituisce il mondo che porta avanti l'economia delle nostre realtà. E' per questo che andiamo a ringraziare di essere con noi e a salutare Roberto Baldo, che è il responsabile di attività e progetti finanziati di Forema. Buongiorno a lei, dottor Baldo. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie di essere con noi, una volta tanto, lo ribadiamo, non è la prima volta che parliamo di Forema, voi esistete dal 1983, siete un ente di formazione che ha anche un po' precorso i tempi, perché magari nell'83 la formazione non era così considerata come magari lo è al giorno d'oggi o ci sbagliamo. No, no, assolutamente. Noi ci occupiamo appunto dall'83 di lavorare sulle competenze delle persone. Io normalmente quando presento la nostra società mi piace definirla un provider di opportunità, cioè il nostro mestiere è quello di accompagnare la transizione dei sistemi produttivi, dei sistemi industriali, fornendo alle persone che lavorano all'interno dell'azienda, ai vari livelli, ma anche a chi vuole entrare nel contesto produttivo, strumenti e occasioni per imparare nuove metodologie, nuove conoscenze e alla fine nuove abilità proprio per sostenere lo sviluppo del sistema produttivo. Allora, specifichiamo sempre per chi ci ascolta la casa e che magari non lo sa, Forema è un ente di formazione di Assindustria Veneto Centro, che è questa realtà importante che è nata con la fusione delle due realtà di associazioni industriali, un'industria treviso e confindustria Padova, da quanti anni esiste Assindustria? Sono di ranzi anni, no? Allora, Assindustria Veneto Centro come nuovo soggetto giuridico esiste dal 2018, quindi ormai siamo fresco, ma eredita una forte tradizione delle due associazioni territoriali, quindi insomma è un soggetto oggi di primo livello, a livello nazionale come rappresentanza, come numero delle aziende associate e quindi anche come capacità di lettura dei trend e delle dinamiche di questo territorio. Con il nostro ospite questa mattina avremmo voluto parlare di una quarantina di argomenti, non si può, visto che in mezz'ora si farà fatica a trattarne due o tre, ma dottor Baldo, congiuntura difficile dal suo punto di vista della formazione, oggi le aziende, le nostre aziende, il nostro Triveneto, Veneto e Triveneto, come sono? Cioè nel senso a che punto si trovano anche del loro cammino di crescita? Perché ovviamente tutto quello che è successo non ha fatto altro che mettere in difficoltà questo percorso di crescita. Sì, allora noi veniamo da quasi un decennio di intensa trasformazione del tessuto produttivo Veneto. Il Veneto è comunque una terra di manifattura, ma in cui la quota di servizi, soprattutto i servizi innovativi e tecnologici, sta crescendo sempre di più. Dal mio punto di vista oggi è riduttivo però leggere i sistemi produttivi, manifattura e servizi, perché ormai sono dei sistemi fortemente interconnessi. Ogni prodotto si porta dietro una componente di servizio, le innovazioni tecnologiche che stiamo vedendo e che abbiamo visto negli ultimi anni portano ad aumentare la quota di conoscenza che viene inglobata all'interno del prodotto e di fatto ne rappresentano una quota crescente del valore per il proprio cliente. Cliente che è sia il cliente finale che utilizza i beni che vengono prodotti dal sistema, ma sempre di più sono i mercati internazionali, perché gran parte delle nostre aziende non sono più aziende che operano semplicemente sul mercato locale, ma si muovono sui mercati internazionali, sia con un brand proprio, sono i campioni che tutti abbiamo in mente, sia magari operando all'interno di filiere molto più articolate, molto più complesse, come per esempio l'automotive. Leggere questi fenomeni ci dà anche qualche sorpresa, perché magari pensiamo a grandi brand del settore auto, senza fare nomi, in realtà buona parte della componentistica viene prodotta proprio in questo territorio. Questo porta proprio il sistema a vivere dinamiche che travalicano i confini regionali, quindi ogni lettura di quello che sta succedendo in questo territorio del Veneto e del Triveneto deve comunque essere raccordata con quello che sta succedendo a livello globale. In queste settimane poi insomma questi fenomeni sono particolarmente evidenti, legati ai problemi degli approvvigionamenti energetici, ma anche agli approvvigionamenti delle materie prime, proprio per far capire come queste regioni, questo macro territorio vive di apertura con i contesti dei mercati internazionali. Lei citava proprio l'automotive, sentivamo degli esperti che dicevano che mancano proprio le materie prime per creare le lamiere delle carrozzerie delle automobili, per cui si blocca la produzione, si rallenta, già hanno vissuto un bienio nel settore auto che è stato disastroso, ma indubbiamente, dottor Bardo con lei vogliamo soprattutto sottolineare un ruolo che voi avete cruciale ormai, cioè la formazione. Adesso le aziende, è vero, sempre secondo un'indagine di fuori, ma le aziende si stanno muovendo nel senso di assunzioni, però di assunzioni di personale specializzato. Quali sono queste specialità che vengono richieste o quali almeno si configurano? Allora guardi, io farei una breve premessa, proprio perché ha citato gli inizi della nostra attività, cos'era la formazione negli anni 80 e anche negli anni 90, ma perché parlando con le persone, con il pubblico in generale, mi accorgo che spesso siamo rimasti ancorati a quella visione. Con la formazione, tutti noi abbiamo avuto l'esperienza della scuola, quindi è facile immaginare che la formazione replichi un po' le dinamiche che avvengono in un'aula scolastica. Mi sento di dire che non è assolutamente così, nel senso che sempre più il nostro tessuto imprenditoriale ha capito che il valore del capitale cognitivo, ossia di quello che le persone sanno e sanno fare, rappresenta il vero motore che permette l'innovazione, che permette la messa a terra del potenziale di innovazione che viene portato dalle tecnologie. Ma il ruolo del capitale cognitivo è fondamentale anche nella capacità di individuare nuove soluzioni e quindi risolvere i problemi, abilità che oggi sono quanto mai richieste, proprio perché il contesto nel quale operiamo è sempre più perturbato ed è difficile pensare a soluzioni programmatiche o preordinate, ma si chiede comunque alle persone di essere ingaggiate all'interno dei processi produttivi e di riuscire a individuare le strade migliori per raggiungere gli obiettivi aziendali. Allora, fatta questa breve premessa, però aiuta a capire anche qual è un po' il nostro ruolo e qual è il senso delle nostre survey. Noi ormai da anni realizziamo queste analisi che ci servono fondamentalmente per capire due cose. Quali sono i trend del nostro settore della formazione, quindi gli argomenti, i target, le motivazioni che portano le aziende a investire in formazione. Dall'altra cerchiamo di capire quali sono i trend invece del mercato del lavoro, cioè come cambia il fabbisogno di competenza da parte delle imprese e qui veniamo un po' al punto di oggi. Allora, negli ultimi anni noi abbiamo assistito a grandi investimenti hard, quindi in attrezzature, in materiali, ma anche in software, quindi in tutte quelle componenti che generalmente vanno sotto il cappello di industria 4.0 e che avevano l'obiettivo di traghettare i sistemi produttivi dal vecchi schemi di manifattura a una manifattura più avanzata, digitale, cosiddetta smart. L'effetto immediato però che si è prodotto all'interno dei contesti aziendali è che questo tipo di innovazione non ha riguardato solo le linee produttive, ma a cascata è andata a toccare tutti i dipartimenti aziendali, quindi la parte di uffici, la progettazione, ma anche i processi amministrativi, i processi commerciali, eccetera. Questo ha avuto evidentemente un riflesso anche sulla richiesta di profili professionali dalle aziende. Oggi è uno dei nodi che l'imprenditore si trova a dover sciogliere quotidianamente. Operiamo in un contesto che non è favorevole, banalmente da un punto di vista demografico, è un tema con cui stiamo già facendo i conti oggi e che non è risolvibile nell'arco di qualche anno, perché sono trend che hanno bisogno di decenni per essere in qualche maniera invertiti o corretti. Dall'altra parte c'è proprio un tema di nuove competenze che vengono richieste e questo è uno dei dati a mio avviso molto interessanti che sono nati dalla survey che abbiamo realizzato questa primavera. Infatti alla domanda che abbiamo un po' fatto al panel di più di 200 aziende venete che abbiamo coinvolto, intanto se stanno cercando del personale, quasi il 90% ha confermato che ha almeno una vacancy aperta e di questa grande fetta di aziende la quasi totalità dichiara di non riuscire a trovare i profili professionali richiesti. Ma prima ancora di entrare nel merito di quali profili è stato interessante capire il perché stanno cercando un nuovo personale. E qui nasce un primo dato a mio avviso interessante, soprattutto letto rispetto per esempio all'anno scorso. Allora c'è una metà dei rispondenti che comunque chiede più personale perché sono aumentate le attività e questo è un dato positivo perché nonostante la crisi energetica, nonostante le difficoltà nei mercati di approvvigionamento, il fatto che l'imprenditore veda nel medio periodo un aumento delle attività e quindi un aumento del fabbisogno di personale è un dato positivo perché comunque viene letto un trend di crescita nel medio periodo. Un quarto dei rispondenti chiede nuovo personale per far fronte ai normali processi di turnover, quindi i pensionamenti, le dimissioni volontarie eccetera. Il dato nuovo se vogliamo è del restante quarto che invece ricerca il nuovo personale per una crescita di carattere qualitativo, cioè si creano nuovi ruoli in azienda, devono essere avviati nuovi processi, ci sono nuove attività che devono essere presidiate, allora qui entrano in gioco le competenze che vengono richieste alle persone perché molto spesso si tratta di vere innovazioni organizzative trainate da quei processi di digitalizzazione nella massima parte dei casi, che richiedono appunto nuove competenze che è molto difficile trovare sul mercato. L'aspetto anche di una forma, una realtà come forma che nasce nel 1983, è anche emblematico sempre di un altro nodo che secondo noi rimane purtroppo ancora tale, di questa distanza che esiste sempre tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, cioè questa incapacità arrivati alla fine della scuola è come trovarsi sulla soglia di un baratro invece di avere un ponte che attraversa questo baratro per arrivare dall'altra parte, insomma da questo punto di vista è stato più che esemplare anche la realtà costituita da Foreman, però insomma oggi come oggi voi siete chiamati appunto a un ruolo importante perché esiste questa articolazione di richieste che non è sempre così semplice da soddisfare. Esatto, esatto. Diciamo che in buona parte circa la metà delle richieste, delle vacancy espresse dalle aziende riguarda i reparti produttivi, però attenzione non stiamo parlando semplicemente di operai, qui non stiamo parlando di braccia, stiamo parlando di test e di braccia, nel senso che anche il ruolo agito in produzione, o meglio quello, il lavoro che concretamente viene svolto è sempre meno un lavoro meramente esecutivo, tra virgolette a bordo macchina, che è un po' l'immaginario che abbiamo tutti, ma è un lavoro di gestione di un processo, di gestione di dati che nascono da quel processo e quindi accanto alle specializzazioni tradizionali che sono un dato se vogliamo strutturale di questo sistema, quindi figure come il saldatore, il montatore meccanico, il carpentiere, eccetera, non è sufficiente fermarsi alla denominazione della figura professionale, bisogna scavare un po' più a fondo, bisogna un po' capire all'interno di quel contesto produttivo che cosa significa svolgere quella mansione e quel ruolo. Dall'altra parte, l'altra metà diciamo delle richieste riguarda gli altri profili di carattere più impiegatizio o manageriale, perché anche questo è un dato che segnala un po' l'evoluzione del sistema economico veneto, che quindi nuove figure professionali che vadano a presidio di tutti quei processi collaterali, se vogliamo, alla produzione vera e propria, ma che servono a generare valore per il mercato e per il cliente, quindi tutta la parte di progettazione che risente evidentemente poi delle nuove tecnologie che sono state implementate in azienda, tutta la parte di relazione con il mercato, volutamente non parlo di marketing e di commerciale, perché in realtà sono delle figure che si compenetrano sempre di più e che nascono appunto da una proficua interazione con i clienti, quindi un ascolto del bisogno, la traduzione di quel bisogno in prodotto e servizio e poi la sua messa a terra per arrivare appunto al cliente. Ecco, scavando poi nei singoli contesti produttivi ci accorgiamo che il ruolo realmente agito all'interno delle aziende, quindi quello che viene ricercato dall'imprenditore non è solo il know-how tecnico, quindi il saper fare, ma si porta dietro anche altre due componenti fondamentali, da una parte le cosiddette competenze trasversali, quindi la capacità di lavorare in un gruppo, il problem solving, la comunicazione, tanto per citarne qualcuna, che hanno a che fare con la capacità della persona di utilizzare il proprio know-how tecnico, quindi il saper fare all'interno di un contesto organizzato, perché lavorare in un'organizzazione è diverso dal agire il ruolo come singolo. L'altra componente, un po' più nuova se vogliamo, è quella legata alle digital skills, se ne parla molto, per digital skills non intendiamo, non è che dobbiamo tutti diventare dei programmatori, tanto per essere chiari. Digital skills significa molto semplicemente essere in grado di utilizzare in maniera professionale quelli che sono gli strumenti di lavoro correnti, che oggi sono digitali. Per fare un esempio giusto per capire, un conto è avere un profilo Facebook, o Instagram, ecco, con le nuove generazioni, o TikTok, un conto è utilizzarlo come canale di comunicazione verso il mercato. Quindi magari la competenza tecnica che ci sta dietro è simile, ma l'orientamento, il risultato, il tipo di messaggio che vado a veicolare è completamente diverso. Ecco, oggi quello che viene richiesto alle persone in azienda nasce un po' dall'intersezione, da questi tre insiemi ideali, è quello che se vogliamo in letteratura viene chiamato il modello degli hybrid jobs. Lei quando parla di social e quando si sentono persone che dicono noi lavoriamo con i social, uno può anche sorridere pensando invece a questa bivalenza che hanno i social, importantissima, che diventano uno strumento di lavoro molto importante, non solo uno strumento di altro tipo, ognuno ne fa l'utilizzo che preferisce, ma sono diventati strumenti di lavoro molto molto importanti, molto significativi. Senta, una domanda che non avevamo mai voluto rivolgere e non ci saremmo mai posti il dubbio di doverle rivolgere. Qualche giorno fa è uscito lo studio di un ufficio studi molto importante nel nostro vento, ma con riscontri anche a livello nazionale, che parlava del pericolo di questo autunno in cui tante aziende rischiano di chiudere per tutto quello che sta succedendo non ultima un'inflazione che ha raggiunto dei livelli veramente terribili. Esiste secondo lei effettivamente il pericolo che questa benedetta inflazione diventi stagflazione con questo termine che terrorizza solo a pronunciarlo, che significa praticamente una specie di paralisi totale di quella che è l'attività produttiva. Solo prefigurare uno scenario così, pensandolo, è terrificante, immaginiamolo se si verificasse. Io non ho la sfera di cristallo, lungi da me da fare previsioni. Quello che posso dire però è un po' questo, l'urgenza da parte delle imprese di lavorare sul capitale cognitivo, sul capitale umano, sul reclutamento delle persone, segnala che uno dei fattori di cui dobbiamo sempre tener conto è che senza le persone giuste, le persone formate, il sistema produttivo non va avanti. Quindi è un'emergenza anche questa che metterai sullo stesso piano dell'emergenza energetica e della crisi dell'acciaio, tanto per dire una. Però su questo devo dire che ci sono degli strumenti già operativi o di imminente operatività che possono aiutare nel mitigare perlomeno già da quest'autunno questi fattori di crisi. Mi riferisco in particolare al programma Goal. Il programma Goal è un'iniziativa finanziata dal PNRR di cui si parla continuamente. Adesso finalmente entriamo anche nell'operatività e che verrà gestito, viene gestito dalla regione del Benetton in particolare, dalla direzione lavoro. L'obiettivo di Goal è proprio quello di dare la possibilità alle migliaia di persone che comunque non sono oggi attive sul mercato del lavoro, darà loro la possibilità di accedere a percorsi di orientamento, a percorsi di formazione che non sono finalizzati a facciamo il corso, sono finalizzati a prepararli, a motivarli, a dargli tutti quegli strumenti necessari per entrare in azienda e quindi andare a colmare questi gap, questi skill gap che il sistema produttivo continua a denunciare. Senti, noi non le vogliamo far fare neppure una valutazione di carattere politico, è che già con una classe politica un po' discutibile come quella che abbiamo noi in generale, perché purtroppo la classe politica è in tutto il mondo, trovarsi a fronteggiare tutte queste criticità, non sono da invidiare i decisori cosiddetti, perché con una pandemia che non è vero che sia finita, con una guerra che non è vero che sia finita, con un'inflazione che è a questi livelli, insomma sono tanti aspetti, tante criticità che non è che siano la criticità del quotidiano o dell'ordinario, sono criticità che hanno una complessità globale, non indifferente. Sì, sì, assolutamente, in questo momento ai vari livelli di governo c'è una grande responsabilità nell'utilizzo, ripeto, di leve strumenti che fino a un paio di anni fa mai ci saremmo immaginati, però i primi risultati li stiamo vedendo, quindi abbiamo fiducia che le cose vadano avanti. Sì, indubbiamente, perché c'è solo una questione come il prezzo dei carburanti, che allora ci riporta all'annosa questione del sviluppiamo la rotaia e non la gomma, cioè qua si va a ritroso in questioni che ci portiamo avanti dal secondo dopoguerra del Novecento e che sono ancora lì a mostrarsi in tutta la loro tragica realtà, perché veramente noi da questo punto di vista accusiamo anche dei ritardi che sono… per fortuna che esistono le realtà formative come la vostra, potremmo dirlo, meno male che l'Italia, quando si chiamava ancora Confindustria Padova, se non andiamo errati, allora si pensò a creare questa realtà formativa quando ancora non si ponevano certe criticità, ma magari si guardava nell'ottica di affrontare un domani, che non si sa quanto domani fosse stato, una difficoltà di carattere contingente come quella che ci troviamo adesso ad affrontare ed è stato veramente molto lodevole. Dopo, sulla scorta della vostra esperienza, sono nate tante realtà di formazione, però voi insomma in questo senso rimanete una realtà pioniera da questo punto di vista. Io le ringrazio dei complimenti, diciamo che il nostro lavoro ovviamente ha l'obiettivo di aiutare le aziende a costruire un futuro più sostenibile da tutti i punti di vista, però è vero, ci sentiamo anche un ruolo di carattere sociale, nel senso che lavorare sulle competenze delle persone ha il grande vantaggio che crea degli elementi, degli strumenti che non si consumano tra virgolette, o meglio che poi aiutano questo territorio ad essere sempre più attrattivo, che permettono alle persone di sviluppare un percorso di carriera e quindi in qualche maniera arricchiscono tutto il sistema, non solo il sistema delle imprese. Ed è anche uno dei motivi per cui la formazione da sempre è oggetto di investimenti pubblici e uso il termine investimenti proprio perché l'idea è che è qualcosa che poi ritorna alla collettività, non è semplicemente una spesa o un finanziamento. No, perché indubbiamente lei ha parlato appunto di aspetto sociale, una persona che ha una formazione non si sentirà mai un emarginato nel mondo del lavoro, cioè sentirà sempre in base alle proprie competenze di avere quelle possibilità, quelle opportunità che gli derivano proprio dalla sua stessa esperienza formativa da questo punto di vista. Per cui con Roberto Bado, responsabile delle attività e dei progetti finanziati di Fora, abbiamo fatto un lungo discorso che alla fine risolviamo, fortunatamente non con il sorriso, ma perlomeno con uno sguardo che guarda in maniera serena anche a quello che sarà il fatidico autunno difficile, perché da quanti anni ormai sentiamo parlare di autunno difficile? Sì, ogni anno è l'autunno difficile. E' sempre così, però insomma, diciamo sulla scorta anche dell'esperienza che lei ci porta e del lavoro che si sta comunque portando avanti, insomma le contromisure per replicare a tutto quanto sta succedendo esistono, si stanno preparando. Allora, diciamo che il messaggio è che ci stiamo tutti rimboccando le maniche. Le soluzioni sono alla portata dell'intero sistema, ognuno, insomma, credo che stia, ne parlo oltre e fuori, ma anche tutti gli altri enti di formazione, si stanno preparando insomma a mettere in campo le misure più opportune per affrontare queste criticità. Diciamo che il modello che è stato ampiamente sperimentato in Veneto negli ultimi dieci anni vede una compartecipazione degli attori privati e degli attori pubblici, per cui anche le misure di Gol di fatto nascono grazie all'intervento e al potenziamento dei centri per l'impiego che hanno l'onere, diciamo, di attivare le persone che oggi non partecipano al mercato del lavoro, ma vedono la stretta collaborazione degli enti di formazione, delle agenzie per il lavoro, che stanno appunto collaborando per mettere in campo le migliori soluzioni sia per le persone che per le aziende. Creando quell'immagine di rete che finalmente in questo modo si risolve come tali, insomma, tante volte ci si riempie la bocca di certi termini, ma finché non c'è un'attuazione da un punto di vista pratico. Un'indicazione che mi ha fatto di carattere tecnico, chiediamo al nostro ospite, per avere indicazioni a proposito della vostra attività. Noi avevamo ancora un vecchio indirizzo di un sito in rete, un www.foruma.it. È sempre quello. È sempre quello, benissimo. È sempre quello. Per cui, insomma, chi vuole avere notizie e indicazioni anche sulle attività, perché immagino ci sia anche la possibilità, ci siano anche i contatti, no? Certo, allora ci sono tutti i contatti. Il suggerimento è quello di iscriversi alla newsletter oppure iscriversi ai nostri canali social, LinkedIn, Facebook, Instagram, dove diamo un flusso anche più fresco e molto aggiornato di tutte le attività, i corsi in partenza, le iniziative. La cosa che mi premeva chiederle, cioè esistono, lei dirà per forza, dei termini anagrafici. Ovviamente se un trentenne chiede di fare un corso di formazione, di specializzazione, voi non è che gli chiudiate la porta in francese. No, assolutamente. Assolutamente. Allora, le nostre attività fondamentalmente cercano di leggere i fabbisogni delle persone, quindi non solo andare a capire quali competenze servono le aziende, ma anche quali competenze servono le persone sulla base del curriculum, sulla base della motivazione, ma anche sulla base delle esperienze pregresse. ed è per questo che quando il pubblico, i cittadini, si rivolgono a Forema, ai nostri colleghi che sono operatori del mercato del lavoro, quindi anche delle figure certificate da parte della regione, usiamo un po' delle categorie logiche, non perché incaselliamo le persone, ma perché aiuta a capire qual è il miglior servizio che possiamo dare. Quindi lavoriamo con i giovani, quindi i ragazzi di base che escono dalle scuole, da quella che era la scuola superiore o dall'università. I giovani adulti li abbiamo un po' denominati, quindi sono i ragazzi, dico ragazzi perché in qualche maniera ci sono dentro anch'io, dai 35 ai 40, 45, gli adulti, quindi la fascia diciamo fino ai 50, 55 e poi il senior. Dopodiché si entra anche un po' più nello specifico, quindi misure specifiche per le donne, per le persone in difficoltà, per le persone in legge 68, quindi abbiamo tutta una serie di servizi, di progetti fortemente customizzati sulla base dei fabbisogni, dei diversi target. E così riuscite ad abbracciare una gamma, non diciamo esaustiva, ma insomma piuttosto vasta anche di quelle che possono essere le diverse esigenze e diverse problematiche indubbiamente per trasformare in opportunità, anche questo è molto importante. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è scaduto perché tante questioni ci sarebbero da trattare, noi per il momento la ringraziamo di essere stato con noi, Roberto Baldo, responsabile delle attività e progetti finanziati di Forome, le auguriamo una buona estate e un buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Grazie al nostro ospite, a voi per averci seguito, 7 in punto si chiude qui e ve li dà appuntamento ai prossimi momenti di approfondimento in cui affronteremo temi di estrema attualità. Buona giornata e arrivederci. Grazie a tutti.